Due vite d'artista raccontate al pubblico, confidenzialmente senza remore, Benedicta Boccoli e Roberto Ciuffoli, sono stati i protagonisti della seconda serata della rassegna in vino Veritas, inserita nella programma di Manduri Estate nella chiostro del convento degli Agostiniani. Un racconto sollecitato dalle domande della giornalista Alessandra Macchitella. Benedicta Boccoli, definita l'artistissima da Giorgio Albertazzi, è stata scoperta da Gianni Buoncompagni e dopo essere stata ballerina, cantante a Sanremo, attrice teatrale e ha intrapreso la carriera da regista. Ciuffoli, fondatore della premiata Ditt, il gruppo comico con Pino Insegno, continua con successo la propria carriera tra teatro e tv. Entrambi stanno portando in scena in tutta Italia lo spettacolo Il Test con Simone Colombari e Sara Bianchi. La vita è già dura perché non dobbiamo ridere, dobbiamo ridere e essere leggeri sempre. Qualsiasi cosa mi offra, da un piccolo spettacolo teatrale che può essere anche in un piccolo teatro off a Roma o al Sistina o a un film, bisogna farle bene. Viviamo una vita che a volte viene presa troppo sul serio e questo mi sembra l'errore più grande, che se pensassimo davvero che le cose futili poi sono quelle che ci riempiono la vita, allora potremmo pensarla in modo diverso e viverla con un'altra energia, un altro spirito. Manduri e il vino, infine, come dire, è un rapporto primitivo.